Uscire dall'euro, un argomento sicuramente caldo e di tendenza nel 2015 durante la crisi greca con il famoso referendum oppure nel 2018 con il governo del cambiamento e anche qui il famoso programma un po' sbarazzino e invece no, io ne parlo solo adesso, best youtuber ever in realtà siamo qui perché ce l'hanno chiesto gli abbonati in quanto uno dei loro vantaggi con il loro abbonamento è proprio quello di scegliere un argomento di un video e quindi iniziamo a parlarne tra l'altro nei commenti mi avete chiesto da chi è scritto e diretto questo film ovviamente dal mitico René Ferretti immaginare l'Italia fuori dall'euro è sicuramente un esercizio affascinante e molto spesso secondo me può richiamare delle questioni altrettanto interessanti e ipotetiche come cosa succede se esplode il sole oppure cosa succede se mettiamo una bomba atomica all'interno della fossa delle Marianne sì, sto parlando proprio a voi, Kursge in a nutshell cosa cazzo vi fumate là dentro? se per quelle catastrofi il ragionamento è tanto affascinante quanto conseguenziale e lineare lo stesso non si può dire sicuramente per questo tema in quanto le modalità per uscire dall'euro sono molteplici e anche le politiche economiche da adottare fuori dall'euro sono molteplici e quindi danno vita a innumerevoli scenari praticamente un albero che si dirama all'infinito e in questo caso Brexit insegna parecchio quanto le cose possono andare oltre rispetto al previsto innanzitutto direi di partire dall'inizio e cioè chiederci ma perché uscire dall'euro? ora questo argomento è estremamente ampio e richiederebbe una se non più puntate di Whatsapp Economy ma cerchiamo di rimanere sul semplice i detrattori dell'euro affermano che le imprese italiane siano meno competitive rispetto a quelle straniere in quanto esiste la moneta unica quindi togliendo la moneta unica, introducendo la lira e riappropriandosi della propria politica monetaria quindi della sovranità monetaria di stampare moneta tutti i problemi dell'Italia si dovrebbero risolvere in particolar modo grazie soprattutto allo strumento della svalutazione e cioè ridurre il valore della lira in confronto alle altre valute straniere e quindi rendendo i prodotti italiani molto più convenienti e competitivi rispetto ai prodotti stranieri con questa svalutazione quindi si potrebbe guadagnare tutto il gap di competitività perso nei 20 anni di introduzione dell'euro benissimo, ora bisogna chiederci quanto questo strumento della svalutazione ha contribuito alla crescita del PIL dagli anni 60 agli anni 90 lo possiamo vedere con questo grafico infatti la svalutazione della lira nei confronti del marco tedesco è stata pari in questo arco di tempo pari al 660% possiamo notare però nonostante la svalutazione continua la crescita del PIL è stata sempre più modesta col passare del tempo senza contare tutta la instabilità finanziaria che ha avuto l'Italia in quegli anni e anche gli attacchi contro la lira ma ripeto, rimaniamo su semplice e andiamo oltre anche perché il tema della svalutazione lo riprenderemo successivamente ora bisogna chiederci, c'è qualcuno che vuole uscire dall'euro? ebbene, se guardiamo alla popolazione è sicuramente un no infatti il livello di fiducia nei confronti dell'euro soprattutto in Italia è pari al 65% ed è un paese abbastanza scettico nei confronti dell'euro se poi andiamo invece su altre nazioni la fiducia nei confronti di questa moneta va ad oltre l'80% quindi da parte della popolazione in realtà non c'è un consenso univoco sull'uscita dall'euro, sul disfacimento del progetto della moneta unica se andiamo a prendere invece il lato politico beh, nessun governo ha avuto mai il coraggio di intraprendere questa strada neppure il governo del cambiamento che aveva in sé una grande fetta di euroscetticismo ha mai avuto il coraggio di andare verso quella strada e si è dovuto subito ricredere anzi e addirittura nel 2021 abbiamo visto quanto ormai tutti siano diventati europeisti addirittura anche la Lega e quindi anche a livello politico non c'è questa possibilità ma allora chi è che vuole uscire veramente dall'euro? Stiglitz 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 è l'economista più citato dei no euro in quanto più volte ha espresso le proprie perplessità riguardanti il progetto della moneta unica e uno dei temi dei no euro è lui è un premio Nobel, avrà pur ragione ora a parte che Stiglitz il premio Nobel l'ha vinto su temi microeconomici e non su politiche monetarie oppure su temi macroeconomici detto ciò essere un premio Nobel non significa avere sempre ragione io ho voluto fin dall'inizio approcciarmi a questo tema in modo del tutto laico per questo ho comprato il libro di Stiglitz dove appunto esamina tutte le sue idee riguardanti la moneta unica che si chiama il suo libro l'euro e leggendolo inaspettatamente mi sono trovato davanti a queste parole avevo cominciato e concluso il libro sostenendo che il successo dell'Europa e del progetto europeo richiedeva una maggiore integrazione dei paesi membri e che questo era importante non solo per l'Europa ma per il mondo come ho scritto nelle conclusioni del libro la moneta unica può essere salvata e di fatto le azioni necessarie per realizzare questo obiettivo non sono difficili da un punto di vista economico richiedono però una solidarietà politica che finora si è rivelata un sogno inafferrabile e quindi e qui vorrei essere molto chiaro l'idea di Stiglitz non è quella di abbandonare l'euro anzi questa eventualità la reputa come l'ultima spiaggia in quanto crede nel progetto europeo e crede nella formazione di una moneta unica a patto di fare una serie di riforme che spiega nel libro quindi non c'è proprio nessuno che vuole uscire dall'euro e anzi sentite cosa dice lo stesso Stiglitz in questo libro l'ondata di populismo che si sta diffondendo in tutto il mondo avanzato compresi gli Stati Uniti è la chiara dimostrazione di come non si possa addossare all'euro tutta la colpa del nuovo estremismo che affligge un così gran numero di paesi anche il disagio della classe operaia specie degli uomini è una questione di portata mondiale e anche qui è chiaro che non si può incolpare l'euro ma i fallimenti della moneta unica europea hanno alimentato e da se ha ricerbato questa tendenza populisti come le pen amano scaricare tutte le colpe sui capi espiratori classici l'euro, l'immigrazione, il commercio e la globalizzazione in genere l'importante è dare sempre la colpa agli altri senza mai proporre soluzioni efficaci e niente io direi che abbiamo detto già abbastanza quindi ci vediamo al prossimo video e alla prossima ok ok abbonati continuo esiste un modo per uscire dall'eurozona? la risposta è no e niente direi di concludere il video anche quest'oggi spero che vi sia piaciuto e alla prossima puntata di Whatsapp Economy ok alcuni ipotizzano di poter uscire dall'eurozona ma rimanere all'interno dell'Unione Europea godendo in questo modo dei vantaggi del mercato unico o tramite un recesso bilaterale quindi concordato con gli altri paesi europei oppure tramite un recesso unilaterale praticamente l'Italia decide da un giorno all'altro di voler lasciare l'eurozona ma rimanere all'interno dell'Unione Europea peccato che tutto ciò non è assolutamente contemplato dai trattati più volte infatti all'interno dei trattati viene specificato che l'obiettivo ultimo del progetto europeo è quello di avere un'integrazione politica, economica e monetaria tra gli stati appartenenti all'Unione Europea e quindi è esclusa la possibilità da parte di uno stato di fare passi indietro nei confronti di questo obiettivo e quindi praticamente avere un piede in due scarpe cioè ritirarsi dall'eurozona ma rimanere comunque all'interno dell'Unione Europea per permettere questa strada quindi bisognerebbe cambiare i trattati europei che ovviamente richiedono l'unanimità dei paesi membri quindi praticamente è una strada impossibile da percorrere escludendo la possibilità di uscire di botto facendo casino e cagando sul pavimento del Parlamento Europeo in realtà c'è una possibilità di uscita ma non solo dall'eurozona ma anche dall'Unione Europea applicando il famoso articolo 50 che ha permesso al Regno Unito di uscire dall'Unione Europea e quindi innescando la Brexit per farvi capire quanto questa possibilità sia complicata all'interno dell'articolo 50 in realtà non c'è una procedura per abbandonare in modo ordinato l'euro quindi accanto alla trattativa di abbandono nel mercato unico che come abbiamo visto con Brexit è estremamente complicato fare in modo ordinato ci dovrebbe essere parallelamente una trattativa per l'abbandono dell'eurozona senza alcun protocollo esistente quindi è ancora più complesso abbandonare in questo caso l'Unione Europea insomma un casino totale immaginatevi insieme alla Brexit il dover uscire anche dall'eurozona ci impiegheremmo anni e questi anni sarebbero mortali per l'economia italiana quindi l'economia italiana sarebbe depressa ancora prima di poter uscire dall'euro insomma una prospettiva anche qui non troppo rosea come vedete le possibilità sono molteplici già solo nel decidere come uscire dall'eurozona e ovviamente ogni possibilità determina tutta una serie di difficoltà estremamente complesse che si porta dietro si era proposto anche un effetto sorpresa il famoso piano B di Paolo Savona di voler uscire dall'eurozona in un weekend anche questo è un piano estremamente complesso ma ripeto l'argomento è così ampio che è difficile racchiuderlo in un unico video di pochi minuti e quindi ci sarà per gli abbonati una live dedicata su questo argomento il 17 marzo dove approfondiremo questi argomenti e in più parleremo insieme delle tematiche economiche che più vi aggradano quindi vi aspetto il 17 marzo per approfondire anche il piano B di Sa Paolo Savona e più in generale l'uscita dall'eurozona ma ora direi di occuparci finalmente dei risvolti economici di un'eventuale uscita dell'Italia dall'eurozona che come abbiamo visto è altamente improbabile ricordandoci sempre che soprattutto in questo caso gli effetti economici potrebbero essere infiniti in base a come le procedure di uscita vengono portate avanti quindi io mi limiterò a elencare gli effetti principali di breve e lungo periodo in particolar modo il lungo periodo ci sarà di divertirsi quindi belli concentrati ricordando anche qui che più l'uscita potrebbe essere drastica dall'eurozona e più gli effetti economici potrebbero essere disastrosi lo stesso Stigris infatti quando propone il suo progetto di uscita dall'euro pone come essenziale il fatto di dover trovare un accordo sia con le istituzioni europee che con i paesi europei per avere un'uscita dell'Italia il più possibile concordata e morbida altrimenti i problemi economici si moltiplicano a dismisura il primo effetto visibile di un'eventuale uscita dell'Italia dall'eurozona avverrebbe ancora prima di uscire dall'eurozona con il famoso effetto della corsa agli sportelli proprio come avvenne in Grecia nel 2015 quando ci fu la paura che la Grecia potesse uscire dall'Unione Europea perché avviene questo fenomeno? come abbiamo detto uno dei primi risvolti dell'uscita dall'euro sarebbe quello di avere una moneta svalutata e quindi con un valore inferiore rispetto all'euro ma le persone preferiscono l'euro rispetto alla lira in quanto a causa della svalutazione il valore della lira è inferiore rispetto a quello dell'euro e quindi per mantenere e per preservare la ricchezza dei propri conti correnti le persone si affrettano verso le banche per ritirare le proprie ricchezze in modo da evitare che i conti correnti cambiano valuta dall'euro alla lira però questo ha degli effetti deleteri in quanto ridurrebbe le disponibilità finanziarie delle banche e che quindi successivamente potrebbe comportare una crisi economica insomma la crisi del 2008 insegna come si succedono tutti gli eventi e quindi lo Stato cosa potrebbe fare? potrebbe bloccare le banche, chiudere le banche per evitare proprio questo effetto della corsa verso gli sportelli la chiusura delle banche porterebbe a una stretta creditizia praticamente le imprese avrebbero molto più difficoltà ad investire e finanziarsi e quindi ovviamente con risvolti economici negativi e quindi più il tempo passa con le banche chiuse e più i danni economici aumentano per questo l'eventualità di un articolo 50 è abbastanza problematica perché avere per così tanto tempo un sistema finanziario bloccato comporterebbe non pochi problemi questa politica farebbe parte di una politica ancora più grande che viene chiamata il controllo dei capitali praticamente lo Stato impone delle regole sulle quantità e sulle modalità di conversione delle lire in altre monete quindi per fare un esempio un po' più pratico sarebbe molto difficile andare a Parigi in quanto ci sarebbero non poche difficoltà a convertire le vostre lire in euro questa politica del controllo dei capitali però è molto efficace per quanto riguarda la società più povera o più ignorante dal punto di vista finanziario invece le persone più facoltose e con un minimo d'astuzia a livello finanziario riuscirebbero col tempo ad aggirare queste politiche di controllo dei capitali e quindi convertire tutta la propria ricchezza dalle lire alla moneta che loro preferiscono arriviamo poi all'uscita dall'euro con la conseguente svalutazione della lira svalutazione della lira che comporterebbe una perdita di valore della lira nei confronti dell'euro pari al 20-30% almeno questo 20-30% di svalutazione potrebbe colmare il gap di competitività perso delle imprese italiane nei confronti delle imprese tedesche in questi 20 anni di euro tra l'altro in tutti questi ragionamenti c'è un errore di fondo in quanto le imprese esportatrici sono le più solide e le più competitive a livello internazionale basta vedere la scomposizione del PIL negli ultimi anni l'unica componente che è cresciuta in maniera sostanziale è proprio l'export quindi uscire dall'euro per favorire l'export è una cosa completamente controintuitiva perché tutto sta soffrendo in Italia a meno che l'export per farvi capire la lungimiranza di queste idee tutto molto bello quindi? Sì ma non proprio in quanto se c'è un vantaggio per l'export c'è uno svantaggio per l'import quindi tutti i beni che noi compriamo all'estero come cellulari, materie prime, prodotti energetici eccetera eccetera costeranno molto di più rispetto a prima e questo comporterà un aumento dell'inflazione, un innalzamento dei prezzi che secondo i calcoli potrebbe aggirarsi tra il 6 e l'8% l'inflazione è una vera e propria tassa in quanto riduce il potere d'acquisto dei cittadini praticamente la ricchezza degli italiani diminuisce a causa di questo fenomeno quindi una volta usciti dall'euro ci sarebbe una vera e propria patrimoniale che gli italiani dovrebbero pagare la cosa più interessante però è che le persone più ricche anche qui riescono ad evitare meglio questa tassa di inflazione ovviamente a discapito dei più poveri quindi anche qui come abbiamo visto in precedenza l'uscita dall'euro graverebbe soprattutto sulle persone più povere o meno informate a livello finanziario quindi andare a fare la vostra vacanza a Parigi non solo sarà molto più difficile a causa dei controlli dei capitali ma anche perché il tasso di cambio sarà molto sfavorevole per gli italiani in quanto i prodotti esteri costano molto di più rispetto a prima spostandoci invece sulla finanza pubblica il debito contratto dall'Italia verrebbe ridenominato in lire e questo grazie anche all'inflazione potrebbe diminuire il debito pubblico in capa all'Italia anche se non si è considerato il caso delle cax che escludono questa possibilità e quindi se effettivamente una parte del debito pubblico dovrà comunque essere ripagato in euro il debito pubblico in questo caso dopo l'uscita dall'euro non diminuirà bensì aumenterà per di più quelli che propongono l'uscita dall'euro hanno intenzione anche di fare default su una parte sostanziale del debito pubblico e quindi anche qui introdurre una vera e propria tassa sui risparmiatori italiani che hanno investito in titoli obbligazionari italiani inoltre probabilmente aumenterebbe anche il deficit pubblico in quanto lo Stato dovrebbe garantire le perdite delle imprese in difficoltà proprio a causa di questa uscita dall'eurozona ci sarebbe inoltre una difficoltà dello Stato nel finanziarsi sui mercati a meno che non si finanzii da solo tramite la monetizzazione in entrambi i casi si potrebbe arrivare a una elevata inflazione oppure la difficoltà da parte dello Stato di riuscire a erogare servizi essenziali per i cittadini oppure pagare pensioni e stipendi dei dipendenti pubblici e quindi di conseguenza anche mettere in difficoltà tutte le imprese che hanno nello Stato un grosso cliente passiamo ora al lato bancario che avrebbe non pochi problemi abbiamo già citato l'eventuale chiusura delle banche per evitare la corsa agli sportelli ma non è il solo problema infatti ci sarebbe una crisi bancaria dovuta anche al default del debito pubblico in quanto le banche posseggono una grande quantità di debito pubblico italiano e se una parte di questo viene non rimborsato ovviamente le banche entrano in crisi di liquidità ci potrebbe essere anche una riduzione della liquidità derivante dalla mancato accesso ai mercati finanziari esteri tutto ciò provocherebbe una crisi bancaria che si potrebbe rifare sicuramente al sistema economico italiano che è fortemente basato sul credito bancario per non parlare della Banca d'Italia che a causa del sistema Target 2 che non stiamo qui a spiegare per non dilungarci ulteriormente ha un debito nei confronti della banca centrale pari a più di 500 miliardi di euro che ovviamente una volta usciti dall'eurozona dovrebbe ripagare tirando un po' le somme tutti questi fenomeni provocano una crisi valutaria e una crisi bancaria che generano una diminuzione del PIL per un bel po' di tempo pari all'incirca secondo alcuni studi del 10% per farvi capire quanto è grande questa cifra nel 2020 a causa della pandemia e nonostante tutti gli aiuti dello Stato il PIL italiano è diminuito del 9% tutto ciò contro una crescita del PIL pari all'incirca dell'1% dovuta alla svalutazione della lira che agevolerebbe l'export italiano per di più questo 1% è molto contingentato nel tempo in quanto se le imprese poi non fanno nulla per modernizzarsi sostanzialmente il gap competitivo dovuto alla svalutazione si perde da lì a poco e quindi praticamente sei punto e a capo tutto ciò senza considerare le ripercussioni legali a causa del default del debito pubblico oppure anche alla violazione dei trattati europei che potrebbero comportare delle multe anche economiche e in ultimo senza considerare le eventuali ritorsioni commerciali che potrebbero attuare gli altri paesi nei confronti dell'Italia proprio a causa di questa scelta di abbandonare l'Eurozona e senza contare per ultimo gli eventuali danni economici che potrebbero essere scaturiti dall'abbandono addirittura del mercato unico lasciando l'Unione Europea che è l'alternativa ad oggi più plausibile per poter uscire anche dall'Eurozona insomma per capirci in poche parole un'eventuale uscita dell'Italia dall'Eurozona comporterebbe una decrescita economica molto grave soprattutto al danno dei più poveri e con tutta una serie di problemi da dover affrontare oltre ai già problemi esistenti all'interno di questo paese già ora che siamo all'interno dell'Unione Europea quindi sicuramente una situazione assolutamente non facile ma nel lungo periodo cosa succederebbe nel lungo periodo? dovete sapere che soprattutto nei primi periodi dove ero qui su YouTube quando l'idea di uscire dall'Euro era molto più in voga rispetto ad adesso ero bombardato da queste persone che dicevano che grazie all'uscita dall'Euro la banca centrale poteva stampare nuova moneta e quindi riappioperarsi della propria sovranità monetaria e liberarsi dai vincoli di deficit pubblico, debito pubblico o tutti i vincoli commerciali che l'Europa ci impone e questo avrebbe permesso all'Italia di poter crescere nuovamente sia a livello europeo ed estero in generale che a livello dell'economia interna ma la cosa interessante è che andando ad approfondire un minimo si scopre che questa tipica posizione dei no euro per quanto riguarda la politica economica che dovrebbe essere adottata dall'Italia al di fuori dall'Eurozona estremamente distante dalle intenzioni dei loro idoli infatti andiamo a guardare cosa dice il piano B redatto da quelli che vogliono proprio uscire dall'Eurozona scopriamo che l'Italia ha interesse a svalutare di una certa entità ma deve agire per frenare una svalutazione eccessiva quindi non focalizzare la politica economica nello svalutare continuamente la lira e addirittura dicono anche questo occorre mettere in campo preventivamente azioni che dino credibilità ai mercati finanziari e ai partner commerciali quali politica monetaria e fiscali credibili stabilire obiettivi di inflazione stabilire i limiti all'utilizzo di allentamenti quantitativi e pubblicare un piano per vincolare la politica fiscale assegnando ad un organismo indipendente la verifica del rispetto di questi obiettivi quindi uscire dall'Eurozona e dall'Euro per liberarci da questi vincoli ma poi introdurne dei nuovi magari un po' più blandi ma molto simili a quelli imposti dall'Unione Europea in quanto anche loro sono consapevoli che sia importante collegarsi ai mercati finanziari nazionali ed esteri e anche ai partner commerciali esteri e quindi veramente io ancora non ho capito ma allora perché uscire dall'Unione Europea e dall'Eurozona se poi alla fine nel lungo periodo le cose non cambiano più di tanto ragazzi direi di finire il video qui i livelli di assurdità direi che li abbiamo raggiunti abbondantemente ringrazio gli abbonati che mi hanno permesso di parlare di questo argomento e se volete approfondire insieme a me questo argomento molto ampio come ho cercato di spiegarvi ci vediamo il 17 marzo per una live con gli abbonati per abbonarvi tutti i link in descrizione e niente ci vediamo al prossimo video spero che questo video vi sia interessato un minimo ce l'ho messa tutta per renderlo il più lineare e semplice possibile quando in realtà non lo è alla prossima ciao ciao ciao